Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il Tg Pordenone Veneto orientale. Sfiorata la tragedia sulla A27 per l'ennesimo automobilista, perché è già successo in diverse occasioni ultimamente, che ha invocato l'autostrada contro mano. È successo in autostrada appunto sulla A27 a bordo della Golf guidata dal cestista della Reier Victor Sanders. C'è Fabio Poser di 38 anni, ingegnere friulano di Bruniera, che questa mattina, 31 marzo, stava andando all'aeroporto Marco Polo di Venezia per un viaggio di lavoro ed ha rischiato un frontale, un frontale con la Golf guidata dall'atleta della Reier. Sentiamo il servizio di Daniele Boltini. Asseminato il panico tra automobilisti e camionisti, imboccando contro mano l'autostrada A27 e percorrendo un tratto di oltre 40 km. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il folle viaggio di Victor Sanders, giocatore di basket dell'umana Reier Venezia. Al volante della sua Volkswagen Golf ha percorso contro mano il tratto tra Venezia e Conegliano. Gli agenti della polizia stradale del distaccamento dell'A27 hanno ricevuto decine di telefonate di guidatori spaventati e sono poi riusciti a fermare l'auto. Sanders, americano di 27 anni, era reduce da una notte brava trascorsa nel veneziano. Lo straniero si è messo al volante, probabilmente alterato dall'Aicol, entrando in autostrada contro mano, forse già all'altezza dell'aeroporto di Tessera. Il giocatore, nel corso della nottata, era già stato bloccato all'interno di un locale di mestre, chiaramente in stato di alterazione. I carabinieri erano intervenuti in un bar intorno alle 3, in seguito a un acceso di verbio che si era scatenato tra il 27enne e altri clienti e lo avevano identificato. Lui, come poi è stato ricostruito, una volta uscito dal locale, si è messo alla guida dell'auto, si è diretto verso l'autostrada e probabilmente allo svincolo tra l'A57 e l'A27 ha imboccato la carreggiata contro mano, percorrendola in direzione nord. L'Umana Rayer Venezia ha diramato un comunicato in cui si dissocia da Sanders per una condotta in contrasto con i valori della società e ha annunciato che prenderà i più opportuni provvedimenti nei suoi confronti. Fortunatamente non ha avuto conseguenze per l'occupante dell'auto il rogo che vedete nelle immagini che si è sviluppato ed ha completamente avvolto un'auto nel pomeriggio di oggi in via Roggiuzzole a Pordenone. Come dicevamo, fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. E veniamo adesso alla polemica tra il sindaco e la comunità di LGBT di Pordenone ma in generale del flusso di Venezia Giulia. Chiediamo che il sindaco Ciriani fornisca prove scientifiche a sostegno delle sue affermazioni sulla fantomatica ideologia transgender termine usato pretestuosamente in antitesi ed accreditati studi scientifici di genere dall'alto dei suoi privilegi di uomo bianco cisgender eterosessuale nel ritenere che la commissione pari opportunità della sua città dovrebbe essere la commissione di tutti tranne che delle persone LGBTQIA+. Ciò a cui il sindaco di Pordenone si riferisce è in realtà la legittima richiesta di diritti e tutela da parte di cittadini che dovrebbero potersi autodeterminare invece di essere rappresentati attraverso un'ottica etero-patriarcale. È quanto ha dichiarato Luca Vida, presidente di Archie Gay Friuli. Quanto dichiarato risulta essere ancora più grave se consideriamo la recente pubblicazione dei dati relativi all'indagine condotta da Istat e da Unar da cui emerge che una persona su tre ha subito discriminazioni di tipo homo, lesbo, bis, transofobico. Alfredo De Paoli è il nuovo amministratore delegato di Interporto Centro in Grosso SPA. La nomine è stata formalizzata nel CDA, riunitosi ieri sera dopo l'avvenuta cooptazione di De Paoli per le dimissioni rassegnate nei giorni scorsi da Giuseppe Bortolussi. De Paoli, direttore tecnico di Interporto Centro in Grosso da diversi anni, garantirà continuità operative e prosecuzione dei lavori di ammodernamento della struttura attualmente in corso nel CDA. Fanno parte anche Walter Santarossa, Isabella Santini e Silvano Pascolo. E adesso parliamo dell'apertura della mostra Samu Expo, la tre giorni nel quartiere feristico pordeonese dedicato al mondo dell'industria, il servizio di Claudia Stefani. Dopo lo slittamento di febbraio, alvia questa mattina la manifestazione dedicata al mondo dell'industria. Espositori e visitatori da tutta Europa al quartiere fieristico pordenonese per Samu Expo, il grande salone biennale dell'industria. Si tratta di una tre giorni dedicata alle ultime novità in tema di metalmeccanica, plastica e subfornitura. A Samu Expo aderiscono i più rilevanti player dell'industria nazionale e internazionale, suddivisi in quattro saloni tecnici, Samu Metal, Samu Plast, Subtech e Fabrica 4.0, che occupano ben dieci padiglioni. Per questa edizione è infatti stata appositamente costruita una struttura aggiuntiva, rispetto ai nove padiglioni fissi che costituiscono la fiera pordenonese, per un totale di 30.000 metri quadrati di area espositiva. Ad illustrare i numeri di questa edizione è il presidente della fiera di Pordenone, Renato Puiatti, che ha sottolineato l'importanza e la voglia di ripartire da quel prolungato stop causato dalla pandemia, dimostrato dalla presenza in fiera di ben 500 aziende per 700 marchi rappresentati. Per questi tre giorni sono attesi 15.000 visitatori. Forte di una posizione geografica che guarda a Veneto e Friuli, lo scenario della fiera si configura anche come una vetrina importante per le aziende che costituiscono il panorama produttivo locale. Per dare la giusta visibilità a questo prezioso tessuto imprenditoriale, la fiera di Pordenone è attivato negli anni collaborazioni specifiche. Comet e Confartigianato Veneto, in particolare quest'anno, sono presenti in fiera in due aree dedicate. I padiglioni 8 e 9 ospitano infatti 74 imprese friulane della metalmeccanica e oltre 40 aziende di Confartigianato Imprese, marca Trevigiana e Confartigianato Padova, tutte attive nell'ambito della metalmeccanica. Si parla molto di disabilità in questi giorni grazie alla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Il 2 aprile a Casa Carli, a Maniago, da oltre 15 anni, attiva un percorso per l'autonomia di persone affette da disabilità di vario tipo. Il servizio di Elisa Cozzadini. Passare da una visione assistenziale a una logica esistenziale, in cui la persona con disabilità è coinvolta in modo attivo e costruisce in autonomia il proprio percorso di vita. E' questo l'obiettivo di Casa Carli, che da oltre 15 anni accoglie persone disabili con un'equip specializzata della cooperativa Itaca, che tiene conto delle potenzialità personali di ciascun ospite. L'avventura è nata grazie alla generosità e alla lungimiranza del dottor Arnaldo Carli e di sua moglie Maddalena, che nel 2000 hanno donato al comune di Maniago l'abitazione di famiglia, con il vincolo morale che venisse utilizzata per alloggiare persone con disabilità, prive di figure parentali o con situazioni infamiliari difficili. La comunità ha aperto le sue porte nell'autunno del 2006, accogliendo i primi due ospiti e dando loro una casa. Molti progetti nati all'interno della struttura da allora, tra questi l'Officina Creativa, un laboratorio sociale e artistico guidato dall'educatrice e arte terapeuta Ilaria Bonben. Con queste iniziative Casa Carli costruisce legami dentro e fuori dalla struttura, aprendosi alla collaborazione con associazioni, negozi e denti del territorio, come il Museo dell'Arte Fabrile e delle Cortellerie. Al centro del lavoro quotidiano degli operatori c'è proprio l'impegno a creare relazioni che rendano ricca la vita degli ospiti della casa, che li valorizzino, facendoli sentire accolti e ascoltati, che li facciano sentire bene. Una rete che riesca a compensare il vuoto della mancanza di una famiglia. Casa Carli insegna che si può fare. Ed è tutto per questa elezione del Tg Pordenone e Veneto Orientale. Grazie per essere stati con noi, buon prossimo momento di serata con Udinese TV. Grazie per aver guardato il video.